Cosa comprano i tuoi clienti? Oggi voglio raccontarti un'esperienza per parlare di questo tema che è estremamente importante, eppure c'è ancora tanta confusione a riguardo, ovvero cosa effettivamente acquistano i tuoi clienti. Qualche settimana fa sono stato in vacanza in montagna, vacanza estiva, e ho mangiato in una baita esattamente alla fine di una salita con la funivia. Era un ristorante che sembrava quasi un autogrill, era immenso, c'era un'opzione self-service e anche la possibilità di mangiare alla carta, quindi ordinare i propri piatti, ma era veramente enorme, non so quanti centinaia di coperti potesse tenere. E mangiando in quel locale ho sentito una persona dietro di me che parlava con la moglie e gli diceva cavolo qui mancherebbe proprio un ristorante bello dove si mangia veramente bene. Ora, piccola parentesi, in questo, diciamo, chiamavano autogrill, anche se non erano autogrill, si mangiava tutto sommato bene, soprattutto per essere un posto in cima alla montagna dove d'inverno probabilmente è anche pieno di neve, è difficile arrivarci. In ogni caso, qual è il punto? Immaginiamo una situazione standard invernale dove le persone sciono tutto il giorno, si fermano per scaldarsi, mangiare qualcosa di caldo e poi tornare il più velocemente possibile sulle piste. Questa tipologia di clienti non vuole un posto dove sedersi e magari stare al ristorante due, due ore e mezza, tre ore magari, per mangiare qualcosa di eccezionale, ma ciò che cerca in quel momento, e sottolineo non tutte le persone, ma la stragrande maggioranza, è mangiare qualcosa di buono nella maniera più veloce possibile, quasi fosse un fast food. Quindi ciò che le persone comprano, in questo caso specifico, non è la qualità di un cibo eccezionale, un'esperienza eccezionale, ma è mangiare qualcosa di veloce, quindi comprano la velocità. E un locale del genere in grado di fare non so quante migliaia di coperti in un giorno, quindi un numero veramente spropositato. Ora, immaginiamo di voler trasformare questo locale in un ristorante stellato bellissimo. E riprendiamo la stessa situazione, quindi le persone sciano, vogliono mangiare qualcosa di veloce, probabilmente spendere anche poco e tornare velocemente a sciare sulle piste. Ecco, in quante persone verrebbero a mangiare in quel ristorante? Probabilmente molto poche. Inoltre, qual è il volume di affari che può avere un ristorante che ti può servire? In un giorno quanti? 100 coperti, se vuoi fare da mangiare in maniera veramente eccezionale, 200? Ok, rispetto a un'impostazione del genere che è in grado di servirtene migliaia. Ti rendi conto come effettivamente un locale di un certo tipo, in una determinata situazione, non necessariamente è adatto. E questo è esattamente ciò che devi pensare quando proponi il tuo prodotto sul mercato. Ci saranno persone che stanno cercando ciò che tu offri e altre che cercano tutt'altro. Quindi alcune vorranno mangiare in velocità, sei un ristorante, altre vorranno qualcosa di particolare. Il punto però non è questo. Il punto è che in base alla circostanza un business può essere più adatto rispetto ad un altro. Quindi quando sentite le persone che sostengono la teoria che determinate tipologie di business funzionano o altre no, non è assolutamente vero perché non c'è una verità univoca, ma la cosa va sempre contestualizzata. Un ristorante super fighetto in montagna probabilmente lavorerebbe poco, o comunque farebbe dei numeri minori rispetto a una struttura del genere. La stessa struttura magari in una zona di campagna lavorerebbe pochissimo, mentre un ristorante particolare in mezzo al verde, in mezzo alla natura, potrebbe essere un'attrazione che attirerebbe gente da chissà quanti chilometri. In ogni caso il punto è, ricorda sempre cosa stanno cercando i tuoi clienti e cerca di servirle al meglio. Quindi non vendergli ciò che tu ritieni che sia corretto, ma vendi ciò di cui loro hanno bisogno, perché la chiave è tutta lì e poi faglielo sapere. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, se hai mai andato a sciare in montagna, probabilmente sì o se ti è capitato, sicuramente hai avuto la stessa sensazione. Qual è? È tutto la mattina che scii e hai freddo, perché bene o male, anche se scii e ti viene un pochino freddo, e cosa cerchi? Qualcosa da mangiare che ti possa scaldare, ma sicuramente qualcosa di veloce. Quindi o sei una di quelle persone che si vuole fermare al sole e si mette sullo sdraio e sta ore lì, oppure sei una di quelle persone che non vede l'ora di tornare sulle piste e quindi vuole qualcosa veramente di veloce e tornare subito a sciare. Quindi ognuna di queste persone ha delle preferenze, cerca di individuare quali sono quelle dei tuoi clienti e agisci di conseguenza. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao! Sì